Salernitana Sampdoria termina 4 a 0 la Salernitana vince con un poker di gol messo a tavolino che raggiunge veramente elevate emozioni la Samp gioca fuori casa in quel di Salerno la Salernitana brilla di luce propria e non di luce ripressa portandosi ad un livello eccezionale di gioco 4 magnifici gol, vediamo in dettaglio il primo al settimo del gioco a firma di Boulaye Dia che la butta dentro in maniera minabie il secondo nel primo tempo al sedicesimo a firma di Federico Buazzoli il penultimo gol al cinquantesimo del secondo tempo a firma di Tommy Vigena ed infine l'ultimo gol, il quarto della Salernitana a firma di Eric Botei al settantasesimo del secondo tempo i primi due gol nel primo tempo, gli ultimi due nel secondo e bastano questi quattro gol per portare la vittoria tutta nelle mani proprio della Salernitana la Samp non riesce a gioire, non riesce ad essere soddisfatta in quanto rimane a zero non riuscendo a far sì che quel risultato che doveva effettivamente esserci sia arrivato perde clamorosamente, parla vi ringrazio in primis per la visione e in secondis per l'ascolto di questo video mi raccomando iscrivetevi al canale, narratore e commentario questo va tutto mi raccomando è un bel piano da